Altra morte da terapia genica sperimentale, non è recentissimo, 31 maggio 2021, ma mi mancava, non avevo mai parlato e ritengo giusto eticamente risalvargli un pochino di attenzione. Un ennesimo caso purtroppo, muore poco dopo la prima dose di vaccino, sporta denuncia, il fratello avvocato tiene l'optossia, 52enne deceduto in casa. La fonte è l'Ansa, quindi vedete l'Ansa, niente poco di meno che l'Ansa, un uomo di 52 anni, Giorgio Paganelli, ingegnere, è morto a qualche ora di distanza dalla somministrazione della prima dose di vaccino, venerdì a Erba. A renderlo noto il fratello avvocato Luigi Paganelli di Lissone, in provincia di Morza, tramite un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove spiega di aver sporto denunce ai carabinieri e di aver ottenuto l'optossia sul corpus del 52enne per risalire alle cause del discesso. Mio fratello Giorgio ha ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer, stiamo parlando di Pfizer, intorno alle 11 di venerdì, nel centro di Lario Fiere ad Erba, ha scritto Paganelli. Era contento di poter finalmente vaccinarsi ed è rientrato a casa della compagna dove ha ripreso le normali attività. Verso le 22 dello stesso giorno ha avuto un grave malessere. I medici hanno tentato di aranimarlo, ma è morto alle 23. Qui addirittura nello stesso giorno, e voi ditemi che è tutto casuale e che non c'è nessuna correlazione. Stando al fratello, il 52enne non aveva patologie pregresse e nemmeno condizioni critiche di salute particolare. Vi risparmi un resto, perché questo è già più che sufficiente, vi invito però a iscrivervi al mio canale e a mettere like. Riposo in pace anche Giorgio, anche questo sfortunato Giorgio Paganelli, a cui dovevamo concedere l'onore di un video.